Oggi ci troviamo a Milano e vi voglio fare vedere questo bellissimo appartamento di 4,5 locali. Come potete vedere è in ristrutturazione, quindi stanno pitturando e l'hanno messo a nuovo. Allora, subito all'entrata sulla mia destra abbiamo quattro armadi a muro, molto ma molto comodi. Andiamo avanti, sulla mia destra accediamo a una grande sala open space con cucina. Con finestra che dà sul verde e sul lago, accesso al balcone che poi vi porto fuori e cucina. La cucina è praticamente tutta nuova. Abbiamo frigo, grande frigo a risparmio energetico, congelatore a due cassetti, forno, vetro ceramica e lavastoviglie. Come potete vedere tutto nuovo. Ora vi porto in balcone. Abbiamo anche la tenda parasole, come potete vedere, e questa è la visuale. L'appartamento dispone anche di un giardino condominiale, come potete vedere davanti a me, con la possibilità di fare il grill con un tavolo. Rientriamo nell'appartamento e andiamo a vedere le camere. Qui, sulla mia sinistra, abbiamo il bagno. WC, doccia E continuiamo con la camera. Questa è una camera singola, ma molto, ma molto spaziosa. E' anche luminoso questo appartamento. Continuiamo e torniamo sul corridoio. Qui davanti a me potete vedere, subito sulla destra, uno spazio per poter mettere magari un guardaroba, un armadio o quello che si vuole. Continuiamo e vediamo l'ultimo bagno. Anche qua c'è il bidet, c'è il WC, c'è... e c'è la vasca da bagno. Anche questo tutto nuovo. Torniamo di qua e andiamo a vedere la camera. Un'altra camera singola. Ripeto, in questo appartamento le camere sono molto spaziose. Quindi anche la camera più piccola, che è questa qua, è molto spaziosa. E poi accediamo alla camera matrimoniale. Una camera lunga, ma anche questa molto spaziosa e luminosa. Quindi abbiamo tre camere da letto, due bagni, uno con vasca e uno con doccia. Una grande sala, una cucina praticamente nuova e un balcone. Mi trovo a Melano, io vi invito a venire a visitare questo bellissimo appartamento in modo che potete vederlo direttamente con i vostri occhi. Da Melano è tutto, io vi saluto, ti affitto!